Devo ringraziarvi perché a seguito del precedente video i vostri commenti mi hanno fatto riflettere, io pensavo che... Quale video? Quello su cannella e calabrone, calabrese, perché io ero convinto che il numero uno al mondo e di tutti i tempi era cannella, il maradona, no? Quello che ha detto che si cura il cancro al colon mangiando carne che poi è morto però... Il mese dopo perché è il numero uno del cancro al colon. Ecco esatto, però abbiamo scoperto che anche l'allievo... Io pensavo che era uno semplice allievo che non era ancora arrivato ai livelli del maestro. E invece potrebbe superarlo. Con quella famosa frase... Che le mucche latte lo fanno lo stesso e io... Cioè che producono in continuazione. Ho un problema perché tutte le mattine ci provo a bere il mio latte ma non ce la faccio. No, e ti devono attaccare i tubi adesso. Adesso come si fa? Devi aspettare che arriva a calabrese e ha aggiunto altri latte. Quindi non sappiamo, anche no, quindi non sappiamo come dipanare questa matassa. Chi sarà il numero uno tra Maradona e Pelè? Allora, i commenti che io ho letto nel vostro video precedente... Comunque se cannella e Maradona è calabrese e Pelè. Perché uno che dice che le mucche e il latte lo producono a prescindere è Pelè. E quindi può superare il maestro. Il maestro è morto comunque e quindi... Poi l'allievo supera sempre il maestro. Beh, non sempre però in questo caso è un allievo potente questo, numero uno. Aspettiamo vostre delucidazioni, anche da parte di Vespa magari. Grande Vespa, numero uno. Che si è messo a dare dei terroristi a una persona che c'era lì, a un vegano. Sì, a un vegano, il quale stava reagendo anche in una maniera piuttosto buona, però c'era la spiritualista lì, Maugeri, che lo continuava a bloccare. Cioè non potete andare con la Maugeri a fare dibattiti scientifici, scusate. Quella l'unica cosa di scientifico è che va caro. Leggete Delia, il vero Dio sceso sulla terra a dire alla gente cosa deve mangiare. E aiutateci ad uscire da questo dilemma. Calabrese o Cannella? Maradona o Pereira? Maradona!